Questi giorni ricevono tante richieste da parte dei nostri cittadini che vogliono tornare in Ucraina subito, suonare subito e combattere lì. Quanti telefonate al giorno ricevete? Non so, 500-600. Ci sono due operatori che rispondono a telefono. Adesso, come sapete, il spazio aereo è chiuso, non si può raggiungere l'Ucraina con l'aereo. Allora adesso cerchiamo la possibilità per i nostri cittadini di andare lì. Chiediamo ai nostri cittadini di rivolgersi a nostri pulmoni privati che vanno in Ucraina oppure andare a Polonia, andare a Ungheria con l'aereo. e in questo modo posso andare più con la macchina fino in Ucraina. Che notizie arrivano intanto dal suo paese? Che notizie stavano? Continuiamo di combattere. Ho notizie da Kiev, per esempio, dove abitano i miei genitori. Tutta la notte Kiev è stato bombardato. La nostra speranza è le nostre forze armate e noi vogliamo combattere questa guerra che ha cominciato la Russia contro le non-Ucraini. Infatti siamo in guerra dal 2014. Vorrei sottolineare che questa guerra non è solo contro l'Ucraina, ma è la guerra contro l'Europa e tutto il mondo democratico. Secondo me la nostra gente è un po' disperato. Disperato nel senso di mancanza di appoggio da parte dell'Unione Europea. Abbiamo tanti bisogni, per esempio, di armi, appoggio più forte, aiuto più umanitario. Fonsore, secondo lei quanto durerà questo conflitto, quanto durerà questa guerra? Fino alla nostra vettoria.